Sì, ci abbiamo provato però hanno giocato bene loro, hanno giocato veramente bene ci abbiamo provato fino alla fine ma alla fine ci hanno superato possiamo dire che sono stati più bravi loro quindi è finita così Ramarico c'è assolutamente perché non la volevamo finire qua ma almeno giocarsela a Modena però è andata così adesso ci sarà un periodo di pausa perché appunto la settimana prossima era in programma gara 3 la stagione di Milano non è finita perché adesso si ritornerà a giocare per i playoff Challenge Cup comunque un quinto posto da provare a conquistare per entrare poi in Europa l'anno prossimo Sì Io non ho ancora pensato cosa c'è giocare non ho trovo le parole adesso perché veramente ci dispiace tanto finire così stasera quindi riprenderemo, ci ripenseremo, ci lavoreremo sopra per essere al massimo poi per i playoff per quinto posto stasera c'è stato un pubblico fantastico qua al Palamia Mamai tutto per Milano è stato veramente bello è stato veramente bello, bello, bello qua con tutto sto pubblico così caloroso, così carico che questa squadra lo vuole lo vuole con tutto il cuore ce n'ha bisogno di questo tiffo e quindi io spero che comunque se è finito playoff per Scudetto che non ci lascereanno adesso da soli e ci comunque vengono a vedere e sopportarci fino alla fine